Quali sono le cause del singhiozzo nell'utero? Le donne incinte spesso sentono un lieve spasmo o movimento dell'intero ventre, che può effettivamente essere un singhiozzo fetale. Un singhiozzo fetale è diverso da uno strappo o da un calcio fetale, che sono percepiti come colpi su un'area specifica della pancia. Il singhiozzo nell'utero può causare ansia per le donne incinte, ma questo fenomeno è normale ed essenziale per lo sviluppo fetale. Ci sono pochissimi studi a riguardo, e la sua causa esatta non è stata ancora identificata. Le varie teorie suggeriscono che il singhiozzo è correlato al liquido omniotico, allo sviluppo dei riflessi o alla compressione del cordone ombelicale. Il singhiozzo fetale può iniziare tardi nel primo trimestre o all'inizio del secondo. In questa fase, la madre di solito non riesce a sentirlo, di solito non sentirà nulla fino a tardi nel secondo trimestre o all'inizio del terzo. Il singhiozzo può continuare fino alla fine della gravidanza. Sebbene non possano essere avvertiti nelle primissime fasi, una macchina Doppler può rilevarli. Una delle cause suggerite di singhiozzo nell'utero è il liquido amniotico. Quando il liquido amniotico entra ed esce dai polmoni fetali, il diaframma si contrae, il che potrebbe causare singhiozzi. Il singhiozzo fetale può effettivamente aiutare nella preparazione del funzionamento polmonare per la respirazione dopo la nascita e nella regolazione della frequenza cardiaca fetale alla fine della gravidanza. Alcuni professionisti del settore medico suggeriscono che la causa del singhiozzo fetale è lo sviluppo riflesso del succhiare e deglutire. Succhiare assicura che il bambino sarà adeguatamente in grado di curare subito dopo la nascita. La deglutizione impedisce al bambino di aspirare il latte nei suoi polmoni. Il singhiozzo nell'utero per più di 10 minuti può essere associato alla compressione del cordone ombelicale. Questo è un male per il bambino dentro l'utero, perché può causare sofferenza fetale, che può portare alla morte del bambino all'interno dell'utero. Per questo motivo, un singhiozzo fetale anormalmente persistente deve essere segnalato a un medico e osservato da vicino. Il professionista sanitario di solito consiglia un ultrasuono per confermare la compressione del cavo. I singhiozzi fetali generalmente non causano disagio, ma possono occasionalmente causare ansia alle donne in gravidanza. Non c'è modo di prevenirli o fermarli, e di solito non c'è nulla di cui preoccuparsi perché è generalmente normale. Se il singhiozzo persiste o la madre incinta diventa molto nervosa per la sensazione o la condizione, deve essere segnalata a un medico e attentamente monitorata.